Salve e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione meteorologica locale a cura di meteocalabria.net. Le condizioni meteo sulla nostra regione volgono al cattivo tempo a causa di aria fredda atlantica che porterà con sé correnti umide e precipitazioni. Per lunedì 26 novembre ci attendiamo il passaggio di una perturbazione da Ponente che interesserà al mattino il medio-alto comparto tirrenico della regione, in rapida estensione alle zone interne e al settore meridionale nel corso della giornata con fenomeni precipitativi anche di tipo temporalesco. Uno sguardo veloce alle condizioni di mari, venti e temperature dove possiamo notare un rinforzo considerevole dei venti su tutto il versante tirrenico con raffiche localmente forti di maestrale Ponente in uscita dalle valli pedemontane ioniche, moto ondosi in aumento con il tirreno che diverrà agitato fin sotto costa, temperature in calo dopo il transito del fronte. In sintesi la previsione per martedì 27 dove possiamo notare un proseguo dell'instabilità atmosferica per effetto di una circolazione ciclonica ancora presente nel sud Italia con piogge temporali che bagneranno ancora la nostra regione, in particolare lungo il comparto tirrenico, non si escludono deboli fioccate di neve sulle cime della Sila. Moto ondoso e venti in attenuazione, temperatura in forte calo anche di 6-7 gradi entrosera con minimi che faticheranno a superare 10-12 gradi nelle località costiere. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento.